benissimo buonasera a tutti i minuti iniziali sono quelli sempre più incerti vediamo se c'è qualcuno che ci fa vedere che che c'è per adesso non c'è nessuno chissà alberto se ci siamo io e te di fronte al mondo di facebook o meno chissà chissà vediamo se appena appare uno noi noi partiamo ufficialmente per la serata ecco perché dovrei vedere beh vediamo una persona l'abbiamo quindi noi basta che abbiamo uno anche lo facciamo anche da solo io e te non ci sono mica problemi non ci sono bene buonasera a tutti i primi minuti sono sempre un pochino di incertezza sull'esito della diretta e complimenti a quelli che hanno deciso di partecipare a questa a questa serata qua noi tutti mercoledì come istituto filosofico studi tomistici tutti mercoledì insomma quasi tutti mercoledì abbiamo l'abitudine di incontrarci dal vivo ante covid adesso post covid continuiamo a fare i nostri incontri in diretta con questo strumento che alla fine è molto molto comodo che permette di raggiungere anche persone magari che sono più lontane almeno dal punto di vista geografico come istituto il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente filosofico chiaramente un ambiente filosofico ha bisogno anche di incontrarsi in carne ed ossa perché per noi la filosofia soprattutto pratica di vita e ma ci rincontreremo ecco sicuramente ci rincontreremo grazie a questi nuovi così espedienti tecnologici e riusciamo anche incontrarci pur in un momento di semi lockdown o meno e la settimana scorsa abbiamo fatto un incontro su tolkien quest'anno facciamo un incontro sulla meccanica quantistica ecco e poi faremo incontri anche di filosofia e vi dirò quali saranno dopo i nostri prossimi il nostro prossimo appuntamento dunque sta serio sono molto contento di essere qua perché sono assieme una persona molto competente molto intelligente molto anche che crede alla filosofia perché alberto purtroppo per tutti e due l'ho conosciuto credo 23 anni fa quando era studente ai corsi che facevamo qui a modena e facciamo dei corsi di filosofia molto strutturati si è appassionato alla filosofia era già appassionato prima e dopo è nato possiamo dire un'amicizia anche se non ci frequentiamo molto però quando ci frequentiamo sembra sempre di tornare indietro nel tempo sempre di sempre alberto valenti è un laureato in fisica è insegnante di fisica alle scuole superiori dico bene però è un grande cultore della materia perché è molto molto sempre aggiornato sui nuovi sulle nuove scoperte che continuamente ci riserva la fisica molto interessato anche la tematica filosofica perché da noi faceva dei corsi di filosofia e quindi è stato un piacere vedere che ha pubblicato questo libro che vi faccio vedere ha pubblicato un libro con il suo amico mursi che invece un filosofo il filosofo e i modelli si intitola il testo la filosofia circoscrizionista della scienza è un testo che la seconda vostra opera loro portano avanti come penso ci dirà lui una teoria circoscrizionista della scienza che non vi anticipo perché sicuramente verrà fuori almeno nel momento al momento delle delle domande testo molto molto bello perché credo che sia senz'altro serio e in più anche nella parte scientifica si sforzano gli autori di renderla in modo divulgativo però molto competente sicuramente dove io competenze in logica posso dire che la parte finale sui teoremi di Gödel è scritta in modo corretto e con una attenzione divulgativa molto molto particolare molto molto veramente ottima non esito a dire ottima stasera ci parlerà Alberto della meccanica quantistica che ha ucciso il gratto di Schrödinger sappiamo tutti che di cosa stiamo parlando e questo incontro in qualche modo segue integra o come dire forse spiega in modo ancora più facile magari un incontro che avevamo fatto un po di tempo fa con un altro mio carissimo amico che il professor paolo zanardi che in questo momento in italia ma insegna in california e che si aveva parlato della meccanica quantistica in particolare declinata sul computer quantistico quindi noi abbiamo sempre avuto come istituto attenzione anche la tematica scientifica perché chiaramente filosofia e scienza si intrecciano in particolare su queste tematiche penso che sia impossibile fare scienza senza filosofia e la filosofia penso che non possa ignorare queste cose un pochino sconcertanti che vengono fuori dalla fisica ecco e non andrei oltre vedo che siamo già in 27 quindi faccio i complimenti a tutti ma farò ancora più i complimenti a quelli che saranno qua fino alla fila della serata alberto vi anticipo vi anticipo solamente che il 5 di maggio e inizierà in infam abbiamo in programma di iniziare un corso un corso di filosofia su platone il corso sarà visibile tramite youtube sarà un corso a pagamenti in questo caso qua quindi non in diretta per tutti un costo molto contenuto peraltro e inizieremo il 5 maggio sempre mercoledì e il corso appunto riguarderà una lettura testi di platone il relatore sarà il mio carissimo amico mario ricco cerigone che autore tra gli altri sei di questo nostro libro che con piacere faccio sempre vedere non per cambiamo chissà quali vendite stratosferica però è un libro importante perché incroce la tematica severiniana florischiana e tomista sul tema della contraddizione quindi chi non l'ha preso non può nella sua biblioteca non avere questo testo che anche molto comodo come fermaporte eventualmente perché abbastanza spesso quindi ci trarre io dove lo consiglio benissimo e sono le 9 07 direi che chi c'era ci doveva già essere a questo punto io alberto e condivido lo schermo tu non ci vedono mi vedi ma gli altri ti vedono e vedono anche lo schermo in cui io ho fatto cambiare altrimenti non avremmo fatto la diretta la prima slide perché ho voluto ci mettesse il mio gatto è il mio gatto è il nostro gatto filosofo no che in questo momento di là infatti che probabilmente sta guardandoti in diretta perché c'è mia moglie col gatto quello sta a giocare benissimo alberto puoi parlare ti lascio la palla e parlerai un'oretta alla fine potrete fare domande dal dal web che io mostrerò poi alberto te le leggerò io perché tu non le vedi e poi te ne farò qualcuno anche anch'io grazie di nuovo va bene allora allora benvenuti a tutti claudio io un ritorno di della mia voce adesso no ok ho scritto chi ha ucciso il gatto di schrodinger il sottotitolo e la meccanica quantistica e la realtà perché la prima cosa da capire è che schrodinger ha vinto il premio nobel nel 32 nel 33 forse nel 35 ha tirato fuori questa faccenda proprio per attirare l'attenzione di tutti quanti sulla sulla contraddittorietà della meccanica quantistica sulla impossibilità di di considerare la materia completa qua ho messo una bibliografia minima non vi spaventate ma vi dico che david z albert che questo libro qua spero di metterlo bene in modo che lo vediate è un libro pubblicato da delfi nel 2000 sotto il titolo la meccanica quantistica e senso comune è un libro leggibilissimo perché scritto da un filosofo e se fosse scritto da un fisico forse sarebbe un po più difficile ne riparleremo poi nel corso della serata poi abbiamo franco selleri che è un libro questo qua molto storicamente direi molto dotto molto pieno di particolari storici molto interessanti poi abbiamo roba il gilmore alice nel paese dei quanti questo qua è stato scritto nel 96 perlomeno raffaello cortina la edito nel 96 è un libro a cui faremo riferimento degli altri sono da segnalare per i lettori che ne sappiano già di più di meccanica quantistica i due libri di de spagna oltre al libro di schrodinger l'immagine del mondo boringhieri nel 2013 anche di questo libro avremo occasione di di parlare più avanti volevo farvi notare questa figura qua sulla destra il gatto di schrodinger è vivo e medita vendetta medita vendetta perché per quello scherzo che gli ha fatto schrodinger schrodinger in effetti non aveva un gatto e per questo ha escogitato questo paradosso nell'illustrazione originale del paradosso c'era scritto che è un meccanismo infernale quello in cui rinchiude il gatto appunto dicevo prima schrodinger ha voluto significare in un modo comprensibile a tutti diciamo un modo abbastanza scioccante un fatto diciamo banale a cui pochi al suo tempo prestavano la dovuta attenzione cioè i fisici erano già per la maggior parte come sono anche adesso cioè interessati soltanto agli articoli a quello che possono scrivere a quello che possono fare e poco alla 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 coerenza alla consistenza delle loro teorie la meccanica quantistica conduce effettivamente a situazioni paradossali lo dice lo stesso paradosso del gatto però d'altronde la meccanica quantistica anche capace di descrivere ci aiuta anche a costruire dei dispositivi che ci sono utilissimi nella vita io cito il laser i telefonini tutti i materiali superconduttori i computers i computer quantistici lo sapete e allora siccome la teoria quantistica questo successo enorme non è mai stata smentita non ha incontrato mai delle smentite sperimentali ma soltanto trovato dei paradossi ci possiamo chiedere che cosa dobbiamo gettare se dobbiamo gettare il senso comune la razionalità insomma il pensiero tutta quanta la filosofia perché troveremmo che è tutto sbagliato quello che abbiamo pensato finora proprio in virtù della meccanica quantistica allora qua ho scritto sappiamo già che la meccanica quantistica descrive una realtà che non assomiglia affatto a quella che noi descriviamo tutti i giorni è stato scritto il mondo silenzioso della meccanica quantistica perché è un mondo che non assomiglia assolutamente al nostro cioè è completamente diverso ma allora sorge spontanea la domanda chi ha ragione in questa discussione ha ragione il senso comune oppure ragione la fisica classica oppure la meccanica quantistica la risposta vedremo che è paradossale anch'essa perché nessuno dei tre nessuno dei tre ragione cominciamo dal senso comune il senso comune non vede il mondo come lo vede la scienza perché la scienza cosa ci dice che la materia è fatta di atomi e gli atomi sono fatti di un nucleo centrale con intorno degli elettroni che girano in questo caso sono sei elettroni quindi sono sei protoni questo va un atomo di carbonio ma se prendiamo anche un numero atomico un po maggiore come un atomo di ferro abbiamo che in un atomo di ferro il raggio dell'atomo cioè la distanza che c'è tra il centro dell'atomo e la periferia è grossomodo 10 alla meno 8 centimetri 10 alla meno 10 metri mentre il raggio del nucleo cioè le dimensioni del nucleo sono circa 10 alla meno 13 centimetri un fermi questo per quanto riguarda le distanze lineari cioè se prendiamo il rapporto tra il diametro dell'atomo e il diametro del del nucleo abbiamo lo stesso fattore 10 alla 5 quindi una volta che passiamo ai volumi diciamo che troviamo 10 alla terza per 10 alla 5 cioè troviamo 10 alla 15 quindi troviamo che il nucleo che contiene tutta la massa del praticamente dell'atomo è un milionesimo di un miliardesimo del volume vuol dire che l'atomo è praticamente vuoto come dico ai miei studenti noi siamo vuoti si può anche dire che che i fisici credono ai fantasmi e che li vedono tutti i giorni perché i nostri corpi sono praticamente vuoti questa è la verità allora capite che il mondo che descrive la scienza questo è solo un esempio ma il mondo che descrive la scienza è molto diverso da quello che descrive senso comune per quanto riguarda la teoria fisica classica è entrata in crisi tra la fine dell'ottocento all'inizio del novecento è proprio questa crisi che ha innescato la nascita del paradigma del modello quantistico quindi le prime due hanno torto sicuramente ma ci restano delle domande anche sulla meccanica quantistica perché come vedremo è molto problematico che possiamo accontentarci di questa teoria la domanda è se la meccanica quantistica è una teoria completa cioè se va bene per descrivere il mondo se possiamo accettarla come la teoria in qualche modo completa di cercare tutto l'universo qua devo scrivervi qualche ma poche poche formule salto tutta la discussione sulla sulla meccanica quantistica sui sulle simmetrie sui gruppi sul teorema di nelson di stone eccetera c'è salto le le robe più importanti ma anche la teoria della misura importante anche il paradosso del gatto è importante allora in meccanica quantistica siano due tipi di evoluzione temporale cioè il primo tipo è il tipo di schrodinger quello che è governato dall'equazione di schrodinger diciamo che può essere scritta così cioè noi abbiamo lo stato della funzione d'onda al tempo t che può essere descritto a partire da si di t 0 la funzione misurata preparata in un certo istante 0 per l'operatore di evoluzione temporale che ci dà successivamente al variare di t ci da psi di t questa qua è un'evoluzione che è di tipo lineare cioè si può sempre calcolare cd di t a partire da psi di t zero è causale nel senso che si di t non fa sorpresa cioè rigorosamente determinato ed è una modo di evoluzione continuo e differenziabile nel tempo questo è il primo tipo di evoluzione temporale il secondo tipo invece ecco un'operazione di misura cioè cosa vuol dire questo quando noi facciamo una misura su un sistema abbiamo che alla fine non lo troveremo né linearmente né causalmente in un modo o nell'altro ma avremo una transizione discontinua nel tempo legata tra l'altro al tempo che impiego ad eseguire una misura non causale perché se io faccio una misura su uno stato puro diciamo tecnicamente o quello stato puro come autostato del sistema cioè l'osservabile che gli è accompagnata osservata soltanto quella ma se ho lo stato misto quando misuro vado a prendere uno solo degli stati uno solo degli stati che componevano il mio sistema con una certa probabilità questa probabilità è calcolabile sicuramente e non è mai sbagliato la meccanica quantistica allora il tipo 1 si applica a tutti i sistemi non soggetti operazioni di misura il tipo 2 si si applica quando si effettuano operazioni di misura quindi è fondamentale chiedersi cosa è per la meccanica quantistica un'operazione di misura questa è la domanda fondamentale io spero di poter fare una domanda a claudio vorrei chiedergli quanti sono ancora collegati sono in 27 hanno superato vabbè allora possiamo andare avanti hanno superato lo shock iniziale non preoccuparti quando sono a zero te lo dico hai capito anzi così smetto di di darvi del voi ma ti dico del tuo allora questo qua il libro di robert gilmore alice nel paese dei quanti le avventure della fisica a cui faremo riferimento perché dice gilmore sodinger aveva immaginato questo esperimento mentale uno sventurato gatto viene chiuso in una scatola insieme con una fiala piena di gas letale e con un meccanismo che rompe la fiala se si verifica il decadimento in un campione di materiale radioattivo ora il decadimento radioattivo è senza dubbio un processo quantistico il materiale può decadere o no o meno secondo le regole della meccanica quantistica c'è una sovrapposizione di stati in alcuni dei quali il decadimento si verifica in altri no naturalmente quegli stati in cui si verifica comportano la morte del gatto così hai anche una sovrapposizione di stati gatto in alcuni è morto in altri è vivo qualora venisse aperta e qualcuno osservasse il gatto da quel momento in poi sarebbe morto vivo il problema posto da schodinger era qual è lo stato del gatto prima che la scatola venga aperta questo qua è nel libro alice nel paese dei quanti a pagina 65 tra l'altro prosegue così alice chiede che cosa successe quando avete aperto la scatola beh sai risponde il meccanico quantistico erano tutti così prese dal problema che nessuno l'ha mai aperta così il gatto è rimasto lì in quel modo il gatto sarebbe abbastanza arrabbiato chiaramente come si vede anche dalla foto questo qua vi fa vedere come è fatto il meccanismo di schodinger qua dentro c'è un materiale radioattivo se decade scatta il fa un clic la scatola e quindi il peso va sul contenitore in cui c'è del cianuro e il cianuro evapora e uccide il gatto e è un meccanismo diabolico naturalmente ci si può chiedere come fa la meccanica quantistica a descrivere lo stato del gatto g che deve essere un po morto e un po vivo il fattore 1 su radice di 2 è perché se si calcola la probabilità totale che il gatto sia o morto o vivo ci deve risultare 1 quindi per questo motivo c'è 1 su radice di 2 perché lo stato vivo è perpendicolare allo stato morto cioè se facciamo una proiezione dello stato vivo sullo stato morto la proiezione 0 invece la proiezione vivo su vivo viene 1 e quindi il gatto come ci appariva prima che aprissimo la scatola e lo guardassimo beh ci appariva così come Alberto scusa visto che mi sembra un punto importante questo qua potreste un pochino provare a spiegarcela questa formula qua che hai fatto i passaggi forse un po troppo veloce però come faccio a spiegarvela senza schermo? ce la torni a spiegare no no ci vediamo la lasci lì poi ce la torni a spiegare allora se io faccio se uso questo qua sarebbe un cat che rappresenta la funzione d'onda del gatto che è morto più vivo per uno su radice di 2 se faccio un bracket cioè se prendo lo stato bra e lo coniugo con lo stato g e faccio il modulo quadro ho la probabilità che sia vivo o morto allora mi viene morto su morto mi da 1 vivo su vivo mi da 1 morto su vivo mi da 0 e vivo su morto mi da 0 non è capito niente vero? Claudio? un pochino di più ho capito un pochino di più un pochino eh insomma se come dice Gilmore Alice sbirciò dentro il cesto più da vicino uno degli aspetti del gatto era tutto occupato a lecarsi il pelo e non aveva ancora finito di parlare Alice che divenne del tutto solido e la visione morta scomparve perché lei quando comincia a vedere il gatto vede il gatto un po' vivo e un po' morto vede il contatore col martello ancora su o già giù quindi vede un pochino l'anfora che conteneva il cianuro ancora intera oppure spezzata vede un pochino tutte e due le cose questo qua era il signor Schrodinger per dirvi che non era assolutamente come dire un tipo da poco ha vinto il premio Nobel nel 1933 ha scritto l'equazione di Schrodinger dipendente dal tempo non c'è tempo per spiegarvele altrimenti ci vogliono un po' di mesi e l'equazione di Schrodinger indipendente dal tempo è quella che usano soprattutto i chimici è un tipo che si è interessato molto di filosofia diciamo dei pressocratici della prima filosofia greca quando erano un po' filosofi un po' naturalisti e si è interessato anche del pensiero indiano eccetera insomma è stato per tanti aspetti un precursore è stato soprattutto abbastanza vicino ad Einstein nel pensiero sulla meccanica quantistica perché neanche lui l'accettava sostanzialmente e appunto ha voluto con questo esperimento con quel paradosso del gatto provare che la meccanica quantistica porta soprattutto attraverso la teoria della misura a risultati paradossali non soltanto per il senso comune per la fisica classica ma anche per la ragione e la razionalità insomma per il pensiero allora qua ribadisco la domanda chiediamoci ancora che cos'è per la meccanica quantistica un'operazione di misura dobbiamo addentrarci un po' meglio in questa operazione di misura allora per sottoporre un sistema a misura occorre prima di tutto prepararlo ossia effettuare una misura preventiva di un insieme di misure di un insieme completo di osservabili compatibili quello che si chiama un ICOC infatti sappiamo dalle relazioni di indeterminazione di Heisenberg penso che tutti ne abbiano sentito perlomeno parlare che non tutte le osservabili sono compatibili cioè non posso misurare la posizione e la velocità di una particella oppure la sua energia in un tempo infinitamente piccolo sono legami questi che sfuggono tra osservabili appunto incompatibili allora abbiamo invece un insieme completo di osservabili compatibili che ci danno il massimo dell'informazione che possiamo avere sul sistema quindi gli scienziati quantistici sono seri perché dicono questo è il massimo che possiamo ottenere allora preparato che abbiamo il sistema possiamo lasciarlo evolvere dopodiché facciamo una misura la misura ha un effetto sul nostro sistema che ha che si può ridefinire la riduzione del pacchetto d'onde perché si può definire così perché si può calcolare che l'applicazione dell'equazione di Schrodinger provoca uno un successivo sparpagliamento della funzione d'onda su più stati ognuno con qualche probabilità di essere osservato allora quando andiamo a effettuare una misura causiamo il passaggio dalla somma di stati ad uno stato unico quindi è per questo che la misura non ha un risultato certo ma è un risultato soltanto probabilistico in questo senso si parla di probabilità quantistica e qualcuno ha anche preso talmente sul serio questa cosa qua da provare a sviluppare una logica quantistica anche questa qua però è un argomento che ci porterebbe lontano allora il significato ultimo del paradosso del gatto è il seguente se si effettua una qualunque misura e si tratta l'apparato di misura come un oggetto quanto meccanico la riduzione d'onde della riduzione del pacchetto d'onde non avviene mai cioè non avviene mai l'operazione di misura se invece si va a vedere la posizione di un pointer cioè di un ago su un indice graduato si va a vedere lo strumento cosa segna si vede sempre che è definito su qualche valore allora diciamo che è successo qualcosa di non quanto meccanico perché per la meccanica quantistica non accadrebbe mai allora i punti di vista su questo problema che come capite è un problema abbastanza fondamentale ed è anche profondo e ci mette un pochettino in crisi perché dobbiamo chiederci qual è la coerenza di quello che diciamo veramente cioè è un problema molto serio anche se il paradosso del gatto è stato poi preso abbastanza così sul ridere come una barzelletta i punti di vista su questa problematica si riducono sostanzialmente due uno è sostenuto da Lev Davidovich Landau e da Niels Bohr quindi da due pezzi grossi ed è che l'apparato di misura non è un oggetto quantistico cioè è un oggetto classico quindi non obbedisce alla meccanica quantistica capite che questo fatto è un po' cioè introduce una specie di schizofrenia nello sperimentatore perché lo sperimentatore fa un'esperienza su un oggetto quantistico poi ve lo va a leggere su un oggetto non quantistico è un po' schizofrenico come poi c'è un altro problema dov'è il confine tra microscopico e mesoscopico o macroscopico non c'è una frazione di un millimetro in cui possiamo dire questa cosa qua è microscopica oppure questa cosa qua non è più microscopica comunque questi sono problemi aperti il secondo punto di vista è l'autocoscienza dell'osservatore che effetta la riduzione del pacchetto d'onde anche qua abbiamo dei nomi come John von Neumann e Södinger Södinger diceva siamo noi che uccidiamo il gatto quando andiamo a vedere come sta il gatto lo uccidiamo se lo vediamo morto e lo facciamo vivere se lo vediamo ancora vivo e anche questo è un punto di vista abbastanza problematico il secondo punto di vista si può spiegare se si cerca di uscire dal paradosso replicando gli apparati di misura cioè io posso affiancare l'apparato di misura uno da un apparato di misura due che vado a vedere la posizione del primo pointer il secondo poi questo qua gli metto un apparato di misura 3 ma tutto l'insieme di questi apparati che io metto insieme non ci porta a un risultato perché se ogni apparato di misura si comporta da oggetto quanto meccanico cioè obbedisce alla meccanica quantistica non sia mai la riduzione del pacchetto d'onde a un certo punto bisogna andare a vedere come stanno le cose quindi rompere la catena è asserire qualcosa quindi dove si rompe la prima possibilità qua ne hanno ragionato parecchio le persone senza cavare un ragno dal buco o quasi come vedremo la prima possibilità è che la coscienza dell'osservatore rompere la catena sorge allora il problema della autocoscienza dell'osservatore qua ho messo il nome di qualche sostenitore di questo punto di vista John Foyneumann Fritz London Edmund Bauer Eugenio Paul Wigner fisici oppure fisici chimici insomma è un punto di vista che è stato abbastanza dibattuto di fatto questo punto di vista ci conduce verso il solipsismo forse verso l'idealismo e sicuramente contro la lettera magari anche contro lo spirito dell'unità della scienza perché vorrei vedere cosa succederebbe se noi accettassimo questi discorsi ecco ho scritto che non bisogna pensare che questa posizione dualista sia una cosa poco diffusa in filosofia perché ad esempio è presente in David Albert il filosofo che vi dicevo prima quello della meccanica quantistica e il senso comune che dice a pagina 117 la mente associata a quel cervello apre il suo occhio interno per così dire e scruta quel cervello causando il collasso dell'intero sistema cervello strumento di misura sistema oggetto della misurazione e tutto il resto allora questo punto di vista evidentemente è abbastanza diffuso però io dico che l'osservazione scientifica sarebbe così ridotta a un esame introspettivo del singolo ricercatore cioè allora tutta l'osservazione scientifica sarebbe semplicemente uno spingere l'occhio della nostra mente a dare un'occhiata al suo cervello e mi sembra un po' esagerato perché mi basti pensare qualche conseguenza se la ricerca scientifica fosse davvero basata sull'introspezione beh uno scrive oggi mi sento abbastanza male e questo è un buon esame introspettivo cioè non si può negare Gilmore o Gilmore ridicolizza questa teoria a pagina 81-82 quando espone la teoria dell'imperatore sottotitolo la mente domina la materia è il nostro stesso atto d'osservazione che impone un'unica e ben definita forma al mondo dice l'imperatore nel mondo attuale tutto quanto è governato dalle leggi della meccanica quantistica ma la mente umana è esterna adesso e non subisce tale restrizioni quando noi osserviamo noi scritto con n maiuscolo noi osserviamo qualcosa allora quella cosa viene osservata essa sa che noi sempre maiuscolo l'abbiamo osservata l'universo intero sa che noi l'abbiamo osservata e rimane di conseguenza nelle condizioni in cui noi compimmo la nostra osservazione questa chiaramente si capisce che Gilmore se la prenda con questo tipo perché è una caricatura si capisce però è una è una cosa anche questa insostenibile la seconda possibilità è quella offerta da Niels Bohr vi dicevo che diceva è fondamentale ricordare che i sistemi macroscopici sono classici allora il nostro linguaggio diceva Bohr è stato abituato a descrivere i sistemi classici i sistemi macroscopici e si è adattato ad essa perciò può dirsi classico e il nostro linguaggio è inadeguato a descrivere il microcosmo il microcosmo che sarebbe oggetto della meccanica quantistica ci sono poi anche delle tendenze unificatrici anziché dualistiche della meccanica quantistica nell'interpretazione della meccanica quantistica per esempio la scuola di copenhagen qua vi cito questi autori di cui Angelo Loinger e Giovanni Maria Prosperi hanno lavorato a Milano negli anni passati gli altri beh John von Neumann lo conoscete cosa dice la scuola di copenhagen dice che la realtà connessa all'apparato di misura e al suo studio è in realtà molto più complessa io dovrei scrivere non una funzione d'onda una funzione di stato per l'apparato di misura ma molte funzioni per gli stati di misura e fare una media sugli stati che non conosco si parla allora di cancellazione statistica delle fasi praticamente è un tentativo di mettere insieme la meccanica quantistica con quella classica il risultato finale è che lo stato è puro e l'equazione di Södinger vale universalmente il risultato finale è quindi come se noi facessimo la riduzione del pacchetto d'onde si parla di cancellazione statistica delle fasi il come se però in tanti casi non funziona secondo questa scuola la misura non avrebbe in caso in cui secondo la meccanica quantistica avviene ma questo qua lo diceva il mio prof 40 anni fa circa e io non ho capito tutto e questa qua è la cosa che non ho capito infatti non ho mica preso 30 in istituzioni di fisica teorica ho preso 27 appunto perché qualcosa non l'avevo capito avete presente la teoria di Girardi Rimini Weber una teoria che prevede che gli oggetti macroscopici siano sempre in uno stato definito perché una particella a caso di questi oggetti macroscopici effettua spontaneamente la transizione la riduzione del pacchetto d'onde e tutte le altre le vanno insieme comunque queste qua sono cose un po' tecniche la seconda tipo di spiegazione sarebbe ricorrere alle variabili nascoste queste possono anche portare all'equazione di Schrodinger come hanno dimostrato Bohm Bob e altri ma è importante in questa discussione l'intervento di John Bell nel 1965 Bell ha dimostrato che il teorema di Fein-Neumann che asseriva la non esistenza dalle variabili nascoste era in un certo senso un teorema sterile perché Bell ha dimostrato che una teoria ragionevole delle ipotesi delle variabili nascoste esce dalle ipotesi del teorema di Fein-Neumann che quindi è un teorema sterile poi importanti anche in questa discussione sono gli esperimenti di Madame Avou che ha fatto molti esperimenti che andavano contro gli esperimenti che andavano contro la meccanica quantistica cioè lei ha fatto un lavoro certosino per smontare chi attaccava la meccanica quantistica insomma oggigiorno bisogna ammettere che la meccanica quantistica è giusta se però è giusta c'è un problema interpretativo e soprattutto la meccanica quantistica è incompatibile con la località di Einstein cioè con un tipo di realismo come quello sostenuto da Einstein vorrei segnalare che è incompatibile con una teoria che faccia tre premesse realismo libero uso dell'induzione e la separabilità che cosa dice realismo definiamolo con parole semplici alcune proprietà del mondo hanno un'esistenza indipendente dagli osservatori umani questo mi sembra che tutti possiamo crederlo tutti crediamo che se abbiamo messo diciamo l'automobile in garage beh è ancora lì cioè si può sperare che nessun ladro sia entrato nel garage e ce l'abbia portata via questo è un esempio del realismo il libero uso dell'induzione ci dice semplicemente che l'inferenza induttiva è lecita come dire che se io ho vicino a me un libro con la copertina azzurra posso dire questa frase non c'entra l'induzione in senso matematico o altre cose e la separabilità cioè l'idea che una misura fatta con uno strumento in un posto non ha influenza su un altro strumento fuori del cono luce il cono luce è presto detto che cos'è è un concetto della meccanica quantistica è l'idea che le interazioni non si possono propagare più velocemente della luce questo semplicemente le teorie realistiche locali cioè quelle delle tre premesse che ho appena detto danno alcune previsioni che contrastano con la meccanica quantistica su certi eventi di correlazione tra eventi lontani nello spazio allora tralasciando quello che ho scritto vengo alla terza ipotesi la terza ipotesi interpretativa cioè many words è stata inventata da Hugh Everett che vedete è morto giovanissimo e tra l'altro aveva dei problemi perché quando ha proposto questa teoria l'accoglienza è stata molto ma molto fredda forse anche per quel motivo lì è andato a lavorare penso con i computer e aveva poi problemi di di alcolismo di altro genere diceva Hugh Everett nella sua teoria di molti mondi che vedete è del 1957 poi la teoria è stata ripresa da John Wheeler e credo che la parola molti mondi sia stata inventata da Bruce De Witt le funzioni d'onda si applicano a tutto quanto anche all'universo nel suo insieme cioè potrei scrivere una funzione d'onda universale c'è una funzione d'onda quindi universale e funzioni d'onde relative relative a oggetti più piccoli la riduzione del pacchetto d'onda in questo schema non accade mai perché cosa accade allora io ho fatto questo disegno per spiegarvi supponiamo di essere in questo momento di avere davanti un sistema in situazione A più B più C più D e io faccio una misura e dopo la misura mi trovo con il sistema A più B allora secondo la meccanica quantistica posso dire c'è stata una riduzione del pacchetto d'onde ma non è detto dice Everett perché può darsi che la parte C più D sia semplicemente finita in un altro universo cioè se ho lo stato A più B faccio la misura numero 2 mi ritrovo con lo stato A non è che lo stato B sia passato nel non essere è semplicemente su un altro universo e così l'universo si dirama in ogni operazione di misura ogni volta che ho una percezione del mondo avviene una separazione della funzione d'onda universale su più rami su uno dei quali resta il mio io di cui sono cosciente adesso e siccome so di essere cosciente sono autocosciente qua vedete il gatto che si separa in un gatto vivo e in un gatto morto quindi quando vado a vederlo non è che io lo uccida ma scelgo in quale ramo stare a proposito di gatti ogni volta che qualcun altro ad esempio il mio gatto ha una percezione del mondo avviene una separazione della funzione d'onda quindi ogni volta che il mio gatto mangia una crocchetta c'è una separazione della funzione d'onda siccome il mio gatto mangia un sacco di crocchette il mondo è molto complicato il risultato sarebbe che cambia la mia percezione del mondo ma il mondo in sé resta sempre uguale sto semplicemente esplorando mondi differenti o percorsi che di per sé rimandano a mondi differenti e io spero che almeno proviate a fare un filmino mentale nella vostra testa dei mondi quanti sono questi mondi e dove sono sarà perché io ho studiato prima queste cose qua di leggere Severino che ci ho visto subito quando l'ho letto un'analogia con la teoria dei molti mondi di Everett perché Severino parlava dell'eternità di tutti gli enti dice ogni ente è da sempre e per sempre e io ho semplicemente esperienza di enti di enti che entrano ed escono dal cerchio dell'apparire sentite che è cambiato il linguaggio ma il concetto è un po' lo stesso di cui parlava Everett non so se stasera ci sia per Elda e se sia d'accordo comunque la teoria è stata successivamente diciamo riabilitata perché la gente all'inizio faceva alzate di spalle con questa teoria ed è una teoria interpretativa però l'idea che l'evoluzione delle funzioni d'onda universale avviene con infinite biforcazioni su un ramo dei quali siamo noi un ramo intendendo sempre una scelta ad ogni bivio cioè siamo su un ramo che però va pensato come torno un attimo indietro alla figura va pensato come A più B più C più D A più B B poi qualcosa d'altro poi ancora qualcosa d'altro cioè un ramo in questo senso questa teoria interpretativa è perfettamente consistente in accordo con la meccanica quantistica cioè i postulati e le formule i conti che si fanno con la meccanica quantistica ortodossa sono perfettamente coerenti con questa teoria interpretativa questo risultato è del 60 quindi ha una sessantina d'anni finisco di parlare con Archibald Wheeler perché ho scelto una frase per mettere in fondo che non vuole essere un commento a quello che ho detto ma siccome l'ha detta Wheeler la responsabilità intanto è sua quindi se fa ridere qualcuno bene se no è colpa di Wheeler una frase celebre di John Archibald Wheeler era questa non rincorrere mai un autobus una ragazza o una teoria ce ne sarà sempre un'altra o un'altra nel giro di qualche minuto c'è chi insomma mia moglie mi ha criticato perché ho messo la ragazza insieme all'autobus ma la frase è fatta così dice di non rincorrere mai un autobus una ragazza una teoria e dice anche il perché non rincorrerla comunque per adesso l'hai finito posso interrompere la condivisione Claudio? ma dunque magari vediamo se c'è non lo so se ci sono delle domande magari da fare dal pubblico legate a a quello che ho detto sul momento non francamente non ne vedo di domande aspetta ne è arrivato una adesso aspetta che te la allora facciamo così forse se c'è bisogno di ricondividere tu non ecco guarda adesso ti vedono tutti però forse ti conviene togliere la condivisione così tu riesci dopo a leggere anche forse le domande sullo schermo quindi adesso togli la condivisione perché ne è arrivata una che va allora ecco mi chiedono ma la teoria dei molti mondi non si basa sui possibili stati delle particelle un mondo per ogni stato domanda difficile dunque se la capisco se la capisco eh si riferisce alle particelle in quanto che la meccanica quantistica è molto usata nelle particelle è alla base dello studio delle particelle e anche del del modello standard eccetera però la domanda vera è la meccanica quantistica vale anche per gli oggetti macroscopici è questo che stiamo cercando di insomma stiamo stanno cercando di capire quando Schrodinger ha fatto il paradosso del gatto ha voluto dire che che questa teoria la teoria quantistica non ha soltanto delle ricadute nel mondo delle particelle cioè dell'infinitamente piccolo ma ha delle ricadute anche nel mondo mesoscopico nel mondo umano nel mondo nostro e non lo so un mondo per ogni stato cosa vorrebbe dire purtroppo la internet non mi permette di 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 entrare nella mente del signor Mauro Mottola magari poi se vuole fare un'integrazione va bene allora gli chiediamo se vuole fare un'integrazione eventualmente siamo disponibili anche perché tra l'altro ha un bellissimo immagine c'è cattiviche direi quindi molto aspetta ha fatto un'integrazione adesso la domanda è in che modo la coscienza interagirebbe e definirebbe come atto volontario deterministico l'esito di una misurazione questa è una domanda da girare a Schrodinger se potessimo io non lo so sicuramente in che modo si possa anche perché la vera domanda è che cos'è la coscienza qualcuno ha scritto non ricordo il nome ma è stato un filosofo della scienza anglosassone ha scritto la coscienza capire la coscienza è la vera il vero grande ostacolo per avere una descrizione scientifica di tutto il mondo dell'universo la coscienza diciamo umana o animale se vogliamo ma in particolare anche quella umana certo sull'atto volontario segnalo per averlo visto ieri in libreria un libro di Giuseppe Trotter Giuseppe Trotter è il traduttore italiano del libro Gödel Escherbach di Hofstetter e ha scritto il titolo è il libero prigioniero una cosa del genere la libertà del libero prigioniero non mi ricordo lo segnalo vi rimando a quel libro perché ci sono una quantità di problemi so che i neurologi filosofi della mente i neurofisiologi ne imparano sono bellissime domande chiaramente sono problemi che sono enormi insomma ti ringraziamo del riferimento tra l'altro vedo che siamo in 35 quindi non so bene che cosa voglio dire questo sono aumentate rispetto a prima senza altro un buon segno c'è una domanda molto breve che mi mi permette di fare qualche considerazione ci chiedano il signor Sergio Zito studio tomistico così come dire cosa stanno facendo i tomisti stanno facendo una domanda così anche simpatico ecco se vogliamo io direi studio tomistico senz'altro perché mi coglie questa domanda mi fa piacere perché mi viene da farti a te una domanda invece in questo senso qua io da tomista da purtroppo da uno che non ha le competenze matematiche che permettono di capire veramente a fondo questi problemi perché penso che non so se basti una laurea in fisica non lo so se basti ecco francamente però io ho sempre seguito la scienza con grata intenzione con la divulgazione eccetera un giorno che avrò voglio mi metterò lì magari un anno intero a andarci più o meno a fondo e provare a capirci qualcosa ecco però ti volevo fare questa domanda io leggendo la meccanica quantistica sono sempre rimasto un pochino colpito dal fatto che uno desse una lettura antirealistica della meccanica quantistica perché perché il realismo il realismo in quanto tale non vedo come possa essere messo in crisi anche da una lettura superficiale della meccanica quantistica ti dico le mie così le mie sensazioni che ho quando sento parlare di meccanica quantistica dove io non è che mi trovi particolarmente a disagio prima cosa Heisenberg Heisenberg che è il fondatore della meccanica quantistica assieme a un altro certo numero di persone aveva un'ottima cultura classica peraltro e nel suo libro Fisica e filosofia esplicitamente dice che la meccanica quantistica lui sta parlando in particolare del principio di indeterminazione di Heisenberg è un concetto molto molto vicino a quello di potenza aristotelica che secondo me è verissimo è verissimo cioè cos'è la potenza in Aristotele la potenza è uno stato dell'ente indeterminato è indeterminato questa è la potenza aristotelica cioè un ente che è in potenza a essere questo o quest'altro non è né questo quest'altro non è né questo questa è la potenza in Aristotele quando passi all'atto allora sì che diventi questa questa biro è in potenza andare in basso o in alto secondo che io la tiri o la lascio andare ma in questo momento la sua potenzialità l'essere in basso in alto è in potenza a tutti e due gli stati quindi adesso sono stato un po' sull'intuitivo però in effetti il concetto di stato indeterminato ma è perfettamente aristotelico e quindi anche perfettamente tomista non a caso Cornelio Favro che è un grande tomista che aveva anche competenze scientifiche lui era un biologo però ha scritto pochissimo di meccanica quantistica però io mi ricordo che l'essi un articolo proprio suo ma parliamo di un articolo scritto negli anni 40 in cui il luce è un grande competenza scrive poche righe e in cui dice però sì la meccanica quantistica ti aiuta a capire casomai Aristotele o in questo caso questo è il primo atto proprio anche a livello di ente la materia di Aristotele è potenza è indeterminatizzazione è la forma che determina e quando andiamo a vedere il gatto che determiniamo per forza è così ti dico un'altra suggestione così te le butto lì filosofiche poi magari visto che tu hai seguito anche i nostri corsi principio cardine della metafisica di San Tommaso principio cardine della metafisica della gnosologia di San Tommaso omnis quat recipitor recipitor ad modum conoscentis cioè tutto ciò che è ricevuto è ricevuto al modum nel modo del ricevente certo nel modo del ricevente quindi se uno pensa che il realismo sia che noi conosciamo la realtà così com'è non ho veramente capito niente del realismo perché tu ricevi la realtà come ma nel modo in cui la conosci è logico che sia così non lo so noi percepiamo la realtà in base anche alla nostra cultura la percezione che posso avere io di un libro di fisica non è la stessa percezione che puoi avere tu è chiaro che conosciamo lo stesso argento però se io vedo una formula mi viene da vomitare se tu vedo una formula dici cavolo che bella che è questa formula qua cioè omnis quat recipitor in modo conoscente ma scusa ma non è quello che si dice che ci dice la meccanica quantistica è chiaro che noi quando conosciamo non conosciamo perché ascoltate bene conoscere le cose così come sono sarebbe come dire che noi conosciamo le cose indipendentemente dal fatto che le conosciamo io conosco le cose così come sono indipendentemente dal fatto che le conosciamo una contraddizione clamorosa questa qua ma infatti Sant'Omaso mai la dice questa storia qua ecco cosa ne pensi tu che hai seguito anche i corsi di filosofia atomista visto che ci ha dato il destro per fare questa domanda qua poi adesso vedo che ne stanno arrivando altre 700 quindi ho scatenato secondo me quello che dici è molto interessante sarebbe molto bello poter ristudiare la fisica con le categorie atomiste evidentemente è anche una cosa che porterebbe a una nuova visione di tanti problemi vecchi che ci sono nella fisica da ormai un secolo insomma da questo punto tra l'altro facendolo seguiremo anche la tradizione di qualche studioso di di meccanica quantistica tu hai detto Heisenberg io dico anche Schrödinger e dico anche Einstein era un discreto conoscitore della filosofia aristotelica e dei suoi sviluppi insomma non dico che avesse detto San Tommaso questo non lo dico ma conosceva Aristotele ok benissimo allora abbiamo risposto intanto colgo il destro per intanto Adriano Virgili che è un bravissimo atomista che ha scritto bisognero libero ecco ci aiuta nella descrizione ciao Adriano ha scritto due bellissimi libri introduttivi a San Tommaso insomma in particolare quello che proprio San Tommaso spiegato a mio cusino per me è un piccolo capolavoro quello lì quindi se uno vuole introdurre San Tommaso senza altro conosco il consiglio del libro di Bernardo Virgili che ci dice anche c'è una bellissima interpretazione in chiave tomistica della meccanica quantistica esposta da Smith nel volume The Quantum Enigma mai tradotto in italiano purtroppo grazie Adriano questa me la segno come si dice lo conosco a vedere ecco ok mi scrivo il nome si te lo lascio lì intanto io adesso faccio a proposito di interpretazioni io mi sono rifatto ai miei appunti di 40 anni fa ma specifico che nei successivi 40 anni si sono sviluppate altre interpretazioni della meccanica quantistica se volete guardate su internet digitate interpretazioni della quantum mechanics vi saltano fuori 12 13 è un numero all'incirca sono sull'ordine delle 15 interpretazioni tutte diverse qualcuna è insensata decisamente qualcuna sensata io faccio scorrere un po' le domande in modo anche un po' democratico perché ci sono alcuni che ne hanno fatte più di una e vorrei anche dunque c'è una domanda di T. helper che si collega a dire la verità a quello che tu avevi chiesto prima avevi risposto prima al signor Mauro Motola la quale dice la quale perché conosco che Katia quindi è una lei non è una visione un po' troppo antropocentrica forse forse sì allora che cos'è un'operazione di misura per la meccanica quantistica il significato della domanda va inteso nel senso seguente si ha in fisica una visione riduzionista attenzione che il riduzionismo scientifico non è niente di particolare è soltanto un'opzione tecnica non è una posizione filosofica ossia una teoria un modello vogliamo sappia descrivere se non tutta la realtà almeno un suo settore allora vogliamo che le operazioni sperimentali di misura che danno i risultati previsti dalla meccanica quantistica siano descritte o almeno descrivibili in termini della meccanica quantistica quindi non è una visione antropocentrica non è che mettiamo l'uomo un po' troppo al centro è chiaro che è l'uomo sempre che fa scienza quindi l'uomo che cerca di arrivare a pochi risultati spesso con fatica ma insomma c'è un problema di consistenza cioè vogliamo che capire non solo l'oggetto della misura ma anche gli apparati di misura questo non mi sembra una visione un po' troppo antropocentrica perché se vogliamo fare della scienza siamo costretti in definitiva a rimboccarci le maniche e poi a lavorare con i mezzi che abbiamo ok spero di avere risposto non lo sapremo mai perché a meno che non abbia lei un feedback ecco il brutto di essere è l'impresenza domanda di Enrico Guidoni amico dell'istituto potremmo dire che il problema è unire livelli di descrizione differenti il problema della meccanica volendo potrebbe essere proprio quello il problema Fonbert Talanfi nella teoria generale dei sistemi dice che l'unica speranza per la scienza è affidarsi ai sistemi cioè i sistemi che devono garantire il passaggio da un modello all'altro nella scienza e trovare proprio un'unità di descrizione come unità di struttura cioè vedere nei vari livelli di sistemi sempre la stessa struttura si si può anche dire che il problema è questo nella fattispecie per il problema della misura in meccanica quantistica è riuscire a capire cosa succede quando si fa un'operazione di misura ma siccome nessuno ci è riuscito Feynman ha detto una frase del tipo ci sono poche persone che credono di avere capito la meccanica quantistica ma quelle persone sono tutte imbecilli io sono sicuro almeno di non essere proprio imbecille perché non ho capito la quantistica a questo punto mi salvo così anch'io sono a posto allora anch'io ok è chiaro che sono tematiche sono bellissime queste tematiche ma c'è poco da fare una domanda molto secondo me interessante questa qua che potrebbe aprire un scusate io vedo che è scoppiato anche un dibattito nella ciacchita interna quindi cerco di essere democratico faccio girare un po' tutte le domande Bianca Chilenev sì la conosco nella mia scolara benissimo come si può conciliare una visione ed una lettura filosofica e teoretica ad uno studio concreto del reale come quello della meccanica quantistica quale deve essere la chiave di lettura bellissima questa domanda si vuole riletto perché non si capisce subito dunque come si può conciliare una visione ed una lettura filosofica e teoretica ad uno studio concreto del reale quale deve essere la chiave di lettura allora siccome parli di lettura filosofica la filosofia che cosa riguarda riguarda sempre il mondo reale il mondo che ci circonda il mondo che siamo anche noi quindi è chiaro che siamo impegnati a studiare il reale anche concretamente come come dici che fa la meccanica quantistica le due cose vanno insieme la chiave di lettura quindi deve essere ad un tempo e concreta almeno se se uno ha deciso di studiare fisica e di affidarsi all'esperimento e di confrontarsi sempre con la realtà e di sentire che risposte gli vengono dai suoi esperimenti e anche filosofica e teoretica perché in fondo ad ogni uomo c'è un filosofo direi non so Claudio se ti senti di rispondere a qualcosa d'altro è un tema enorme questo qua che relazione c'è tra scienze e filosofia non è facile come dire diciamo noi che siamo dei tomisti visto che è chiaro che ci hanno insegnato Aristotele in particolare era uno scienziato era più uno scienziato che un filosofo perché in realtà noi di Aristotele leggiamo la metafisica l'etica Nicomachea ma in realtà è una piccolissima porzione della sua produzione cioè Aristotele ha scritto molto più di scienza molto più di di zoologia che di filosofia se prendiamo proprio gli scritti sono una piccolissima parte gli scritti cosa vuol dire mica che sia allora più importante il resto è chiaro che lui dalla realtà è chiaro che elaborava anche una dottrina dalla scienza potremmo dire che era la fisica aristotelica era scienza quella fisica la fisica aristotelica è chiaro che non ci sono le formule a parte il fatto che ci sono anche delle considerazioni quantitative peraltro anche sbagliate delle volte ma erano di 2500 anni fa come dire da un esame del mondo esterno fatto in modo scientifico anche in senso moderno si può in qualche modo elaborare anche una filosofia però il problema è ma loro in questo modo la filosofia deve prima saperdi scienza per poter essere filosofia ti dicono i filosofi che invece partono dalla filosofia no è la filosofia che deve giudicare in qualche modo la scienza non è facile rispondere che io dovessi dire bastissimo questo il buon senso dice come dire il buon senso anche dei grandi maestri perché poi anche Sant'Omaso era un allievo di Alberto Manio Alberto Manio era poi uno scienziato era molto scienziato anche lui è chiaro che erano scienziati teologi allora peraltro la parola filosofia ricordiamoci che è sostanzialmente fino ad Hegel fino ad Hegel indica scienza Newton scrive i principi naturali di filosofia naturale quindi la parola filosofia fino alla fine dell'Ottocento includeva anche la scienza tanto per dire è soprattutto nella modernità che si separano soprattutto con Hegel si separano i destini di una disciplina rispetto all'altra quindi direi vanno secondo me cercati di studiare tutti e due perché agli scienziati fa bene studiare filosofia e al filosofo fa bene leggere qualche libro di fisica questo qua è poco mai sicuro hanno ambiti differenti oggettivamente per fare filosofia non hai bisogno di sapere della meccanica quantistica in senso strettissimo non hai proprio la necessità fondamentale è chiaro che fai una filosofia molto disincarnata anche dai tuoi tempi perché se non sai di queste cose qua quindi direi vanno studiate tutte e due la filosofia non ha bisogno della scienza però una filosofia che ignora la scienza diventa veramente quasi un esercizio dopo dotto quasi di citazione di autori io aggiungo anche questo secondo me oggi come oggi i veri filosofi io noto che forse sono molto più filosofi gli scienziati anche dei filosofi che andando un po' i convegni di filosofia dopo un po' viene diventato un po' ma di pace francamente perché sono convegni di citazioni di autori non è più filosofia cosa ha detto a Hegel in questa cama però in questa postilla ma nell'edizione ho capito sono collezioni di citazioni la filosofia da questo punto di vista rischia di essere un pochino sterile andando dei convegni dove ci sono anche degli scienziati devo dire che hanno sostanzialmente un approccio realista gli scienziati della realtà e fanno delle considerazioni filosofiche forse molto più filosofiche loro di tanti filosofi che si dicono filosofi che sono noiosi dopo un pochino ci sono delle eccezioni ecco Severino mi sentirei di dire che è un'eccezione un grande filosofo poi si può essere d'accordo meno da questo punto di vista però era uno che almeno la teoresi la portava avanti veramente ecco tanto per dire insomma dovremmo parlare 700 ore di questa cosa qua dunque c'è il signor Motola che dice perdonate di aver invaso la chat ma non è un problema perché ha scritto delle cose interessanti ha scritto delle cose interessanti non anche infatti ci dice Aristotele ha anche fatto degli errori enormi certo non avendo strumenti di osservazione allì fuori dei suoi sensi certo sull'inerzia ha sbagliato questo di sicuro lui diceva che una pietra andava più veloce di una piuma non è vero credendo è proprio falso comunque è chiaro che erano inizie esatto senti io ne approfitterei per farti una domanda perché non ne vedo di particolarmente adesso non so se ne ho salutato perché ho la chat che faccio fatica a seguire ti volevo chiedere il tuo libro il filosofo e i modelli non vorrei tanto parlare del tuo libro però mi piacerebbe citare leggere una cosa e sentire come tu adesso quello chiedo a te e al tuo amico Mursi invece vedete il discorso della meccanica quantistica vi voglio leggere il libro è dedicato alla teoria circoscrizionista della scienza quindi Alberto a ogni capitolo affinano queste definizioni che cos'è il circoscrizionismo però a pagina 35 vi leggo cosa scrivono e cos'è per loro una teoria circoscrizionista della scienza ogni teoria scientifica per il circoscrizionismo no? si lo ricerchiamo ogni teoria scientifica non viene falsificata ma piuttosto circoscritta primo principio essa la teoria scientifica ha a disposizione un campo di validità che riesce a gestire nel proprio campo di validità ogni teoria è praticamente certa ossia è a riparo dalle falsificazioni salto anche alcuni punti ogni teoria dei controesempi cioè di quelle che potrebbero essere falsificazioni ma non sono in realtà i controesempi falsificazioni perché dice la teoria i controesempi non dimostrano che la teoria è falsificata e deve essere sostituita con una migliore ma segnano che il limite del campo di validità della teoria è stato oltrepassato e qua mi fermo perché ci sono altri dodici principi però per darvi un'idea da quello che ho capito io ecco insomma il circoscrizionismo dice una teoria scientifica non è mai falsificata c'è un controesempio quindi vuol dire che il dominio di applicazione di quella teoria lì viene in qualche modo limitato cioè questa teoria va bene in questo dominio la fisica classica f uguale a m per a va bene fino a che è la velocità della luce siamo lontani dalla velocità della luce poi dopo vengono fuori le equazioni relativistiche che mettono anche c come una variabile che varia insomma i parametri in gioco funziona anche per la meccanica quantistica la teoria circoscrizionista o l'avete elaborata la luce della meccanica quantistica non so come come la vedi ecco come ce la interpreti tu da circoscrizionista questa questa rivoluzione dobbiamo dire allora per me la teoria quantistica vale per l'infinitamente piccolo cioè per le cose microscopiche tipo gli atomi le molecole in realtà vale un po' anche per i solidi diciamo vale un po' al di là però serve per capire certi fenomeni se tu devi descrivere come una luce si propaga in un cristallo devi ricorrere alla meccanica quantistica al di fuori non ti serve al di fuori cioè quando al di fuori al di fuori di cosa allora se io vado in bicicletta considero nella mia testa gira il programma il come un programma di computer il modello newtoniano cioè sto attento ai sassi alle buche eccetera ai pedoni ma non sono assolutamente né un relativista in steniano né un meccanico quantistico perché se fossi un meccanico quantistico dovrei pensare forse quel pedone lì l'ho già investito quello lì che mi sta venendo davanti alla bicicletta l'ho già investito e andrei in confusione cioè non riuscirei più a gestire la situazione certo la meccanica quantistica il punto è che è problematico capire quanto è vasto il suo campo di applicazione cioè proprio nella meccanica quantistica è una questione ancora aperta se possa anche riguardare gli oggetti diciamo mesoscopici della grandezza dell'uomo oppure no perché ci sono degli esperimenti che ha fatto un fisico francese che si chiama Alain Aspect nell'82 85 più o meno a Parigi che sembrano provare che certi effetti si propagano anche nel nostro mondo nelle nostre cose beh ha fatto delle prove complicate con dei cristalli che ruotavano e con della luce polarizzata che passava non passava però sembrava che avendo due di questi oggetti uno si rendesse conto di cosa era successo all'altro cioè c'erano delle correlazioni quindi in realtà si applica tutto sembrerebbe non la circoscrivi per adesso diciamo che è problematico il tentativo di circoscriverla no invece noi abbiamo messo in luce come l'utilizzo della scienza attraverso i modelli scientifici cioè il modello newtoniano il modello quantistico il modello semi quantistico obbediscono a dei criteri cioè e ognuno di essi è limitato chiaramente tu puoi utilizzare in un certo problema un modello classico e sbagli arrivi dei risultati folli oppure il modello semi quantistico oppure quello quantistico ma ti accorgi che con quello semi quantistico ti va così così con quello quantistico arrivi delle equazioni che sono assurde e allora dici questa cosa qua praticamente non è utilizzabile cioè non è certi modelli non sono utilizzabili praticamente praticamente però non teoricamente un po' diverso beh ma praticamente dal punto di vista teorico cioè non riesci non riesci davvero a utilizzarli cioè ti perdi nei conti ti perdi nei conti però magari col computer quantistico e forse vedremo il futuro è aperto lo sai che il futuro è aperto ci dobbiamo aspettare di tutto di tutto ci dobbiamo aspettare dunque ne approfitto perché avevamo sollecitato un chiarimento a T. Helper la quale dice dobbiamo tornare un po' indietro purtroppo perché non è immediata è la cosa mi riferivo alla capacità della coscienza di determinare una misura realtà la domanda non è troppo antropocentrica quindi lei dice mi riferivo alla capacità della coscienza di determinare una misura realtà se si parla di interpretazione è chiaro che entra in gioco la soggettività ma se esiste una realtà oggettiva allora questa è al di sopra dell'essere umano e funziona indipendentemente da noi e dalle nostre interpretazioni per questo questo è il senso della sua domanda ma non è troppo antropocentrica cioè lei dice la scienza ci costringe a vedere come sono le cose è al di sopra dell'essere umano e funziona indipendentemente da noi e dalla nostra interpretazione quindi è l'opposto della teoria dell'imperatore questa qua è una no la scienza la realtà dice che è indipendentemente da noi sì sì funziona indipendentemente da noi e dalla nostra interpretazione invece l'imperatore diceva che quando noi eseguiamo una misura l'universo intero si adegua alla nostra misura perché sa che noi lo abbiamo misurato questa qua direi è detto che è una signora o signorina no no sì è una ragazza è una ragazza mi sembra che abbia delle pulsioni antimonarchiche eccezionali perché può essere può essere che la scienza funziona indipendentemente da noi e dalla nostra interpretazione io non saprei dire perché io ho una visione della scienza la realtà però non è che non dice la scienza dice la realtà che funziona indipendentemente da noi la realtà oggettiva diciamo se è oggettiva è già una realtà con un soggetto che guarda tu hai un oggetto se hai un soggetto non esiste una realtà oggettiva al di fuori di quella non possiamo più dirla oggettiva se non c'è un soggetto allora che questa sia al di sopra dell'essere umano primo quindi al di sopra della storia dell'essere umano io direi che invece l'essere umano conosce a partire anche dalla propria storia ricordiamoci quello che diceva prima Claudio quid quid recipitur ad modum recipientis recipitur cioè qualunque cosa viene conosciuta viene conosciuta al modo di chi la conosce del recipiente quindi non è vero che esiste una realtà oggettiva al di sopra dell'essere umano sarebbe la cosa in sé ma la cosa in sé non so manco che cos'è io funziona indipendentemente da noi e dalla nostra interpretazione ma in realtà quando Edward Lawrence ha scoperto che mutando tre cifre nei decimali che aveva aveva quindici decimali diciamo cambiando gli ultimi tre mettendoli a zero aveva delle previsioni completamente diverse è arrivato poi a formulare la teoria del caos cioè come si fa ad arrivare alla teoria del caos uno dice se una farfalla batte le ali in India questo provoca un terremoto in Texas come fai a provarlo e beh ti metti lì fai un lavoro sui modelli prendi dei modelli li metti nel computer li fai lavorare e ti rendi conto che le ultime tre cifre decimali sono molto importanti anche se per il nostro buon senso non conterebbero niente sono quelle che cambiano quello che succede nel Texas quindi funziona indipendentemente da noi e dalla nostra interpretazione soltanto come leggenda come mito come se ragioniamo sulla scienza come è veramente dobbiamo uscire da queste cose da queste credenze dobbiamo leggere San Tommaso innanzitutto e compagnia bella insomma infatti infatti ha svelato anche in chat ha svelato in chat anche l'aspetta ma non posso dirla che è complicatissima è un'intervento di San Tommaso però se la con me ce la ce la con me esatto no in realtà hai risposto molto bene tu perché vedi questa è la domanda che dice si fa un po' fatica a fare questo salto quindi se l'uomo si estinguerebbe non esisterebbe la realtà no questa è l'obiezione però pensiamoci che cosa vuol dire ci può esistere una realtà separata dal pensiero cioè questa è la domanda da farsi può esistere una realtà indipendente dal pensiero noi facciamo l'ipotesi notate se non c'è più l'uomo quindi se non ci fosse più il pensiero la realtà ci sarebbe o no ma noi le stiamo pensando c'è poco da fare quando tu dici quando fai l'ipotesi va bene sparisce l'uomo quindi sparisce il pensiero e quindi c'è la realtà che esiste indipendente dal pensiero ma la stai pensando cioè non riesci neanche a pensarla questa ipotesi qua tanto è forte come dire il potere del pensiero proprio è questo è veramente anti-intuitivo è contro-intuitivo faccio sempre fatica a fare questo salto però noi quando pensiamo alla realtà oggettiva il concetto di oggettivo vuol dire che noi io conosco questa io in modo oggettivo guarda la conosco così com'è cioè indipendentemente dal fatto che la conosco ma è contraddizione questo qua quando parli di oggetto c'è sempre un soggetto c'è poco da fare non si può conoscere qualcosa in modo oggettivo se con oggettivi intendi indipendente dal fatto che la conosci invece altro è dire io questa la conosco realmente a mio modo cambia completamente il discorso anche il fatto non c'è più l'uomo e il mondo ma lo stiamo pensando non riusciamo neanche a pensare il mondo senza il pensiero per forza perché lo pensi questo è il trascendentale questo questa è una cosa molto forte che c'è in filosofia che secondo me appunto per quello con la meccanica quantistica io non mi sono mai trovato a disagio francamente salvo che non pensiamo a un realismo gretto per cui il realismo si conoscono le cose così e sono così e basta allora il realismo diventa no sono così e non vero per le scatte perché ho deciso che sono così io perché sono vere per tutti allo stesso modo per come la conosco io insomma sono tematiche enormi va bene adesso dopo andiamo a far troppo un pochino filosofia vabbè visto che se è un tetto misti non ce neanche male ormai leggere San Tommaso per comprendere la scienza come funzioni realmente ma io questo non lo dico nel senso che la scienza ha le sue logiche ci mancherebbe altro che uno possa pensare che leggi San Tommaso e capisci ecco senza altro i grandi autori i grandi filosofi ci aiutano anche a tematizzare le tematiche scientifiche ma ripeto Heisenberg secondo me è un bellissimo esempio un uomo di grande cultura classica è chiaro che ero uno scienziato per fare della scienza ci vuole della matematica non ci vuole mica delle chiacchiere filosofiche però i grandi classici ti danno la possibilità di andare a fondo io penso che gli scienziati i filosofi tutti mirino a capire no e tutti quelli che vanno a fondo delle problematiche arrivano più o meno agli stessi problemi in matematica è esattamente così la matematica è stata una riflessione sul discorso dei fondamenti e quando arrivano sui fondamenti ma arrivano veramente ai fondamenti Cantor era uno che alla fine poi voleva dimostrare in qualche modo l'esistenza di Dio George Cantor il fondatore della teoria dell'insieme non si disse mai questa cosa qua ma se uno legge gli scritti di Cantor questa c'è se uno legge più di originale poi se legge le vulgate dell'insimistica sembra che sia un ma in realtà voleva fare una metafisica Cantor ma Gredel no porca miseria formalizza l'argomento ontologico poi c'è delle considerazioni fortissime anche teistiche quindi io direi i filosofi gli scienziati per me quando vanno a fondo vanno tutti a parlare dei problemi fondamentali ecco quello lì mi verrebbe da dire così puoi dire non è che fai filosofia capisci meglio la scienza no sarebbe presuntuosissimo no così come alcuni scienziati dicessi se fai scienza capisci meglio San Tommaso dico no un attimo un pochino di più non so se sei d'accordo certo sono d'accordissimo naturale no pensavo se comprendere la scienza vuol dire comprendere la meccanica quantistica è impossibile cioè non esiste però se la si avvicina conoscendo San Tommaso c'è qualche speranza in più di capirne un pochettino di più forse per lo meno di avere di avere coscienza di quello di cui si sta parlando e di riuscire a inquadrare i problemi in un certo modo certo questo San Tommaso può fornirlo può fornire degli schemi filosofici chiari in cui inserire i problemi quindi questo si può dire ok senti ne approfitto per farti un'altra domanda sul tuo libro ti faccio una domanda sul tuo libro visto che è così ma io ti volevo chiedere questo così io mi sono trovato molto bene a leggere il tuo libro a parte che ne abbiamo già parlato insieme anche diverse volte no? perché così mi sembra che possono in qualche modo tornare i conti cioè che le teorie non siano falsificate ma siano in qualche modo circoscritte per quello che ho capito io dalla storia della scienza poi che mi hai fatto capire anche tu dal tuo testo mi sembra molto plausibile ecco mi sembra molto anche di buon senso e mi sembra che funzioni fra virgolette però ti volevo chiedere questo nel tuo libro c'è anche come dire una tentativo di elaborare un metodo diciamo un algoritmo no? un procedimento quasi meccanico che in qualche modo insegni allo scienziato come circoscrivere la sua teoria o la circoscrizione della teoria è affidata in qualche modo all'intuizione alla competenza alla genialità dello scienziato non so se mi sono espresso in modo mi sono spiegato sì sì abbastanza io rispondo dicendo che ho anche scritto che le procedure che uno mette in moto per cercare di circoscrivere una teoria sono le stesse che quando cerca di falsificarla sono esattamente le stesse e questo spiega innanzitutto il successo che Popper ha avuto presso tanti scienziati perché gli scienziati se gli dice per stimologia pensano Popper e il modo però in cui fare questo penso che da nessuna parte nel nostro libro si ricavi cioè noi ci siamo accontentati di fare innanzitutto un'introduzione in cui vediamo come il circoscrizionismo si inserisce nel dibattito attuale della filosofia ermeneutica cioè di quella continentale poi abbiamo discusso vari esempi storici anche non so Bohr Einstein ed altri e poi abbiamo fatto delle considerazioni sul significato filosofico del falsificazionismo e anche abbiamo cercato di vedere un legame tra la scienza e la matematica questo qua lo abbiamo fatto perché la nostra tradizione epistemologica già da Sant'Omaso separa molto la fisica dalla matematica lo fa in vari modi ma dopo Galileo e soprattutto vabbè anche prima dopo Archimede ma dopo Galileo la scienza è diventata sempre più matematica si serve delle formule matematiche e quindi la matematizzazione della scienza comporta certi rischi mi riferisco al teorema di Gödel insomma il teorema di Gödel disegna uno scenario come il circostituzionismo cioè allo stesso modo perché dice che le teorie spesso sono indecidibili sono incomplete e quindi arriviamo anche lì allo stesso no non abbiamo messo la ricetta di come si fa a falsificare a circoscrivere una teoria però ti chiedono un esempio pratico di una teoria scientifica circoscritta e di come lo scrivi perché scrivi lo so primo mentito primo mentito perché aveva detto adesso non scrivo più niente poi dopo invece ho fatto una domanda allora un esempio di teoria circoscritta è la teoria di Newton quando un prof scrive alla lavagna f uguale m per a la forza è uguale alla massa per l'accelerazione dovrebbe scriverci accanto questa formula in certi ambiti è falsa perché f uguale m a è vero soltanto per oggetti abbastanza piccoli abbastanza grandi non troppo grandi e non troppo veloci quindi è un'approssimazione fa parte di un modello è il modello newtoniano il modello newtoniano ha tante utilità oltre a quello di farmi andare bene in bicicletta ma viene usato per spedire i razzi sulla luna per mettere in moto i satelliti per calcolarne l'atterraggio l'allunaggio quello che è ma non va bene in tutti gli ambiti in certi ambiti è proprio sbagliata non la si usa neanche ok altra domanda sono 45 adesso tra un po' poi fermiamo anche perché è piuttosto pesante no è stato molto devo dire è stato bravissimo secondo me ci chiede Daniele Padover c'è un problema reale derivante dei risultati della meccanica quantistica rispetto al principio di non contraddizione no non c'è nessun problema che io sappia almeno non c'è nessun problema cioè inizialmente si era pensato che la meccanica quantistica richiedesse addirittura una forma di logica apposita si chiamava logica quantistica c'è anche nei libri di logica questa parte ma successivamente è stato dimostrato che la logica la meccanica quantistica è tutta comprensibile con i principi della logica aristotelica diciamo quella comune quella che serve tutti i giorni e i principi di non contraddizione no non c'è un problema c'è la come dire la sovrapposizione degli stati quello si c'è ma non è contraddittoria è contraddittoria rispetto al nostro senso comune esatto è paradossale ma non contraddittoria quella è la grande differenza adesso io non voglio mi sembra faccio vedere sempre il signor Mero Motola perché mi sembra che sia inerente a quello che avevi detto tu ecco perché ci aiuta forse a capire anche un po' il senso del tuo libro mi dice ma la teoria di Newton è falsificata da Einstein è inaccettabile in certi ordini di grandezza perché funziona ma formalmente è falsificata le formule sono ancora valide a certi livelli di approssimazione perché vanno bene ma nessuno pensa più alla gravità in quei termini ecco non so se vuoi chiusare ecco perché insomma forse ti dà il destro per spiegare ancora meglio con circoscrizionismo sì ma la gravità è in quei termini se ci allarghiamo a pensare a porzioni di universo un po' più grandi che la Terra e il sistema solare altrimenti la gravità newtoniana va benone per descrivere queste cose a parte il problema del periellio di Mercurio che però lo discutiamo in questo libro è stato corretto relativisticamente cioè non è non è che sia sbagliata in sé la teoria della gravità di newton funziona benone anche essa certo ma funziona ma non funziona dappertutto diceva noi all'inizio della sua produzione che noi andavamo verso un linguaggio unificato che era il linguaggio fisicalista che era il linguaggio unico di tutta la scienza che non c'era bisogno di traduzioni altre che nel linguaggio fisicalista oggi questo schema è superato nel senso che la fisica è una scienza tra le altre cioè ogni scienza ha i suoi metodi i suoi linguaggi i suoi ambiti di applicazione le sue direi equazioni vabbè i suoi i suoi pasticci matematici ma questi sono diversi da quelli della fisica cioè è vero che la teoria di Newton è stata falsificata da Einstein nel senso che è stata circoscritta chi è che userebbe le approssimazioni di Einstein nella teoria di Newton soltanto uno con dei problemi mentali seri perché poi non ci salta fuori da quei conti comunque se volete approfondire queste tematiche io ve lo consiglio ancora vedi ti faccio un po' di pubblicità i modelli vale veramente la pena di spenderci dei minuti per per leggerlo senti io direi che sono le 10 e 46 io francamente non oserei andare oltre anche perché quando si parla di queste cose insomma sono sono cose piuttosto impegnativa ecco io ti ringrazio faccio ancora i complimenti per l'esposizione per il testo bello che hai scritto ricordo ai nostri telespettatori che dal 5 maggio proporremo un corso su Platone ma verrete informati tramite i nostri social per tre mercoledì dietro fila e poi metteremo fuori anche il programma dei prossimi incontri e niente noi vi salutiamo tu non mettere giù Alberto è quando ho finito la regretta ringrazio tutti e ci vediamo sempre su questi schermi a breve arrivederci a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti